Tempi duri per i lavoratori dipendenti di attività strettamente legate alle istituzioni e Palazzo Santa Lucia, sede della regione Campania, è ormai quotidianamente soggetto di proteste e manifestazioni. Questa mattina è stata la volta degli impiegati nell'ambito della forestazione che denunciano mancanza di stipendi da numerose mensilità e incertezza sul loro futuro lavorativo. Lo scorso mese i sindacati avevano denunciato che l'ultima proposta di legge presentata in Consiglio non avrebbe risolto i problemi strutturali dell'ambito ma avrebbe aumentato la confusione. Oltre alla sicurezza sullo stipendio si chiede la riforma della legge 1196 inerente alla forestazione. Protestiamo per la mancanza di attenzione da parte della regione. Noi nel 2013 non abbiamo avuto un euro, avanziamo ancora a mezzo 2012 e addirittura due mensilità nel 2011. Quindi fatevi la somma, siamo arrivati a 21. 21 mensilità di non retribuzione da parte della regione. Ieri la colpa era che questi progetti e gli enti delegati non presentavano i rendiconti. Noi abbiamo presentato tutto ma nonostante ciò non abbiamo avuto un euro.